Webinar gratuito di scrittura creativa dedicato al noir, storia e caratteristiche. Si terrà giovedì 14 online, naturalmente, dalle 19.30 alle 20.30. Il noir è un genere un poco particolare e molte volte viene confuso con altri. Qualche volta si dice che nacque intorno agli anni 30, cosa che effettivamente è vera, perché i lettori non sopportavano più gli investigatori alla Sherlock Holmes, cioè tutto deduzione. La cosa è assolutamente falsa, vi spiegheremo il perché. Parleremo quindi della nascita del noir, ma anche delle caratteristiche e cercheremo, come sempre, di dare dei suggerimenti pratici quali sono gli ingredienti che non possono mancare in un noir. Appuntamento, quindi, per chi lo desidera, giovedì 14 alle 19.30. Grazie a tutti e ci vediamo presto, ciao!